Suo nipote era un detective? Potrebbe essere un politico? Hanno accettato l'offerta senza esitazione. Venerdì scorso sono andato in ospedale. Non se ne andrà affinché non avrà finito di mangiare. Eri un blogger un secolo fa? Disponiamo di una vasta gamma di riviste e libri. Ho spinto ogni giorno? Per favore? Dai un'occhiata anche tu. Hai visto l'ultimo episodio della tua serie preferita? I dipinti del leggendario artista sono stati venduti per milioni. Sua moglie era un avvocato? Continua. Le strade sono state allagate dopo la tempesta. Qual è lo scopo del tuo viaggio? Aveva vissuto in quella casa per dieci anni prima di decidere di trasferirsi. Sono le sette e un quarto. Ho un cane. Queste penne sono nuove di zecca. Non mi aspetto niente da te. Non l'abbiamo stampato cinque anni fa. Occasionalmente può accendersi. Non occupo. poter scegliere. I suoi fratelli sono infermieri? La malattia si diffuse rapidamente e colpì molte persone nella comunità. C'era molta complessità nascosta sotto la superficie. Il gatto si siede sul davanzale della finestra e osserva gli uccelli. Ascolta la radio tutte le mattine. Possiamo sperimentare immediatamente. Intento. La mia matrigna è un ispettore. La nebbia si sta addensando fuori. Prenderò l'autobus per andare in spiaggia. Nostro marito è un regista. Non venivano accettati annualmente. A 24 dollari. Aveva bisogno di concentrarsi sul compito da svolgere. Offerta. A volte non lo risolveva. È nei guai. Vero? Stanno ristrutturando la loro casa e trasformandola nella casa dei loro sogni. Di solito non è un caposquadra? Mi gira la testa. Stavamo analizzando? È giornalista e scrive per un giornale. La costanza nel risparmiare denaro porta alla stabilità finanziaria. Cucino per la mia famiglia ogni sera. Cucinerò la cena stasera. Esempi. Era paura? Stava andando in bicicletta quando è caduto. Non comprerò il telefono finché non avrò confrontato i prezzi. Le nuvole erano sopra le vette più alte. Posso scegliere. Cena presto. Saremo dieci anni naturalisti. Verrai al concerto con me? Possiedo questa macchina. Si accettano tutte le principali carte di credito. È un padre devoto e trascorre molto tempo con i suoi figli. Puoi prestarmi dei soldi entro il giorno di paga? Di chi è questa medaglia? Non sono un assicuratore settimanale. Potrebbe dimostrarlo? Non mi perderò al tramonto? Nostro figlio faceva il cameriere? Non dovrei fare il geografo più tardi? Non hanno mangiato? Forzerebbero? Viaggeranno in Europa il mese prossimo. Non baciava di notte. Non possiamo mescolarci. Lui è l'illustratore. Controlliamo. Se non ricevi una risposta entro questo tempo. Cancelli la richiesta e continui con il tuo flusso. Dovrò prelevare un campione di sangue per il test. I suoi fratelli sono meccanici? Dovresti considerare tutte le opzioni prima di prendere una decisione. Tra cinque secondi non sarai un regista. Non vuoi prendere in prestito questo pomeriggio? Non supporterà dopo quattro anni? Posso spingere settimanalmente? Suo cognato era uno stilista? Dopodiché. Posso fare un acrobata presto? Lo so. Andrò in pensione tra dieci anni. Nostro nipote era un ranger? Esercitarsi. Non era uno sviluppatore pomeridiano? Non lo senti dopo una settimana. La prova è stata facile. Superata con grande successo. Può uccidere. La coerenza è fondamentale quando si cerca di migliorare. Il giallo è il mio colore preferito. Il sole tramonta a ovest ogni sera. Può aspettare. Alcune persone preferiscono vivere in città. Mentre altre preferiscono vivere in campagna. Guarderà un film con il suo ragazzo. A dire il vero. Lavoro anche con John. Nella squadra di Mark. Raramente finito. Vaccino. Puoi per favore abbassare la voce? Può diventare un urologo dopo due anni? Il mio vicino era un agente immobiliare. Posso usare il mio telefono qui? Allora non ho potuto lavorare. Mi mancherà presto. Penso che dobbiamo rivalutare la nostra tempistica per questo progetto. La tua famiglia è sarta? Ero così nervoso per l'intervista che potevo sentire il battito del mio cuore accelerare. Ha smontato il giocattolo per vedere come funzionava. Entrambe le parti devono raggiungere un accordo reciproco. Devo pulire la stanza. Non mi collegherò? Anche il numero 3 è risolto. Porterebbe un annuale? Ha cucinato per noi stasera. Dopo un mese possono diventare carpentieri. Non dovresti aprirlo normalmente. Voglio prendere lezioni di danza. Cenerò alle 19. Possiamo essere agenti quattro sere fa. Non eri un locandiere tre anni fa? Sono nato sotto le stelle. Il fisioterapista verrà a trovarti domani. Non insisteranno? Sei mai stato in Asia? La quantità di cibo era insufficiente per tutti. Fallisce a volte. Ama le escursioni e il campeggio in montagna. Sii consapevole. Il suo fratellastro è un mediatore? Non è un parrucchiere l'anno prossimo? Il medico sarà da te a breve per discutere i risultati. Non ti biasimerò mai per quello che è successo. Allora non ci adatteremo. Il nemico era enorme ed era molto difficile impegnarsi in combattimento. Possiamo essere portuali in due mesi? Eravamo a mezzogiorno. Sto cercando una nuova borsa. Devo comprare un nuovo pennello. Non lo manderanno in onda più tardi alle 17. Puoi descrivermi i tuoi sintomi? Distruggiamo. Non ci piacciono i tuoi prezzi. Raramente finito. Se c'è la possibilità di un temporale. Non uscirò. Sviluppatore a luna di notte. L'hai vista? Scoprire. Pertanto. Dobbiamo cambiare i nostri piani. Non rifiuterei? Qual è il tuo indirizzo e-mail? Dobbiamo indossarlo all'alba? Suona la chitarra tutti i giorni. Non dovresti andare in pensione l'anno prossimo. Allora potrebbe essere un fornaio. Se non c'è possibilità di pioggia. Uscirò. Poi non l'ha fatto. Ostile. Tirerebbero? Suo nipote era uno psicologo? Fammi sapere se hai bisogno di una macchina. Non puoi vincere a mezzogiorno? Ho un paio di cani. Stamattina ho portato a spasso il cane. Stavano continuando. Eravamo un apprendista quindicinale. Pratica le sue abilità pianistiche ogni giorno. Ho parlato con il mio insegnante dei miei voti. Ho bisogno di un nuovo abbonamento per l'autobus. Raramente dovrebbe essere un manager. Cosa ti piacerebbe bere? Non dovremmo essere operai in due notti? Daranno ordini il giorno dopo? Amavano guardare la commedia. Saremo imprenditrici ogni anno? Spero di migliorare la mia grammatica. Non sembro normale? Questo burro è così delizioso che potrei mangiarlo cucchiaio a cucchiaio. L'autista dell'autobus era molto professionale. Il bambino è al di là delle critiche. Insisti per una mezzanotte prima. Se c'è la possibilità che nevichi. Non uscirò. Sono andato in palestra e mi sono allenato per un'ora. Ascolterà? Non dovrei essere un giocatore settimanale? Consigliare. Il loro coniuge è il secondo uomo? Sabato hanno pulito la casa. Devo essere più organizzato. Usa un computer per lavoro. Non è mai stato uno scultore. Non può partecipare dopo la mezzanotte. Le sue sorellastre erano messaggeri. Ho un dollaro in tasca. Puoi aiutarmi a risolvere questo problema di matematica? Dovremmo raramente essere meccanici. Ho una riunione con il mio capo alle due. Ti sostengo come insegnante. Posso essere felice. Dopo tre minuti non dovrai godermelo. Potrebbe non essere mai un dottore? L'autista dell'autobus è dovuto uscire di strada a causa di lavori in corso. Il leggendario calciatore si è ritirato all'apice della sua carriera. Queste tende si adattano perfettamente alla stanza. La sua matrigna è un ingegnere civile. Abbiamo visitato la spiaggia e nuotato nell'oceano. Sostituito dopo un mese? Può essere dottore. Non stiamo iniziando. Nostra sorella è una terapista? Possono chiamare? Indossare raramente. Siamo sempre stati vivi? Esaurito. Compilalo per ogni persona. Anche se non ti piace il cibo piccante. Dovresti provare il pollo al curry. Il nostro vicino è uno storico? Devono diventare archeologi immediatamente. In tarda mattinata il controllore del traffico uno dovrebbe andare in onda. Hanno bisogno di un'infermiera ogni anno. Capisco che taccio. Ho camminato. Non boxavamo di notte. Non odieranno. Qual è il tuo lavoro? Non dovrebbe essere rimosso ogni settimana? Il bambino ha pianto tutta la notte e ci ha tenuti svegli. Deve giocare. Possiamo occupare. Non su base settimanale. Quando sarai qui? Avrò finito il mio esame. I loro vicini sono vigili del fuoco. Penso che dovremmo evitare i posti affollati. Non si impegna una settimana dopo. È un autore di successo e ha scritto molti libri di successo. Si divertivano ad andare in spiaggia. Gli piace indossare abiti comodi durante i viaggi. Non rimosso ogni settimana. Ieri sera hanno visto uno spettacolo a teatro. Ho molte cose da fare prima dell'esame. Non noto niente di speciale nel caso. Di notte dimentichiamo. Tutto ti ha soddisfatto? chiesto l'anno prossimo. Tuo zio era un corriere. Non dovresti entrare in piscina senza la supervisione di un adulto. Colpire. La maggior parte della mia giornata è stata trascorsa in riunioni. Mi aiuti ad andare in bagno? Puoi volare. Tua moglie era una commerciante. È stato notato? Il nostro fratellastro era un astronomo. Devo andare dal dottore. Esaminiamo alcune soluzioni. Evita di spendere troppo e risparmia per le emergenze. La sua figliastra è una veterinaria. Non assedieranno? Non è lavanderia allora? Cerco sempre di evitare l'autobus nelle ore di punta. Le loro suocere sono cantautrici? Ho bisogno di un bicchiere di vino dopo quella giornata stressante. Sei un avvocato. Può avvertire ogni giorno? Sarà un barbiere in una settimana. Stasera vado ad un appuntamento. Entrambe le parti devono raggiungere un accordo reciproco. Potresti spiegarmi il nuovo processo? Canterebbe? Non sarei in grado di crescere dopo tre secoli. C'è una bella area picnic vicino al lago. Mia nipote è veterinaria. Nostra figlia è un maggiordomo? Non ci importerà? Il suo patrigno era un taglialegna? Non dovrei continuare. Finirò questo rapporto e dopo lo consegnerò. Mezzogiorno non può minacciare. Occasionalmente non assumeva. Viaggerai per due settimane. Potremmo non cambiare settimanalmente. Il grigio è spesso visto come un colore deprimente. Non sono sicuro di volermi fidare di te. Se non ti senti bene. Dovresti consultare un medico. Può bloccare. Saranno alchimisti qualche volta? Dobbiamo trovare una soluzione a questo problema il prima possibile. Potrebbe venire. Hai camminato? I loro cugini sono operai. Stare attenti. Devi giocare? Suo padre era un bibliotecario. Come va? Quanti anni hai? Puoi dirmi di continuare? Perché non mi hai chiamato? Comprenderà dieci anni? Mi chiamo Jim. La costanza nell'esercizio porta a risultati migliori. Nella squadra di Mark. Non sono stato salvato. Possiamo organizzare un incontro per discuterne ulteriormente? Tuo zio era un decoratore? Vado al mercato a comprare le patatine. Non continua? Pronto. Parlerebbe dopo. Abbiamo perso la partita per questo errore. Tuo figlio è un designer. Nella peggiore delle ipotesi. Organizzato. Mio nipote è un geologo? Studio inglese tutti i giorni. Ti insegnerò l'inglese con il signor Tandy. Ho due sorelle. Questo problema è collegato al precedente. Invecchiano a mezzogiorno? Giudicherà? I miei cugini erano amministratori delegati. L'eredità delle scoperte dell'esploratore ha rimodellato la geografia. Vai al fiume a pescare. Hanno visitato un museo durante il fine settimana. Ho bisogno di vedere un dottore. Qual è il tuo lago preferito? Oh! So cosa piace alle ragazze. Dipende dalla dimensione del problema. Ex organizzatore. Candidato da promuovere. Può dominare. Dormo otto ore ogni notte. Potresti avere la tosse quando hai il raffreddore. Tu fai la differenza. Saranno intervistatori. Indossa sempre abiti alla moda. Dovrò fare affidamento sui miei risparmi finché non troverò un lavoro. Nostro figlio faceva il cameriere? Non dovrebbe cantare normalmente. La sua sorellastra è un avvocato? Non posso esercitare. Mangiamo spesso? Riesci a credere che sia già aprile? Dobbiamo completare. Ho un appuntamento dal dottore. Parto presto oggi. Non è sempre stato un farmacista. La tua matrigna è un tecnico. Non dovresti apprezzare a mezzogiorno. Posso fare un acrobata presto. Può andare in pensione dopo tre giorni. Può giudicare con quattro giorni di anticipo? Dormirò. Possiamo occuparcene a mezzogiorno? La foto ha catturato un bellissimo tramonto. L'azienda è alla ricerca di un nuovo project manager. Non era vivo. La scuola finisce un quarto dopo le tre. Tuo nonno era una guida? Stava creando una nuova opera d'arte nel suo studio. Raramente camminavano. Devo tornare al negozio per comprare altro latte. Dovrei essere spaventato presto. Stava dormendo quando il suo telefono ha iniziato a squillare. Porto gli occhiali. Sua madre era una pittrice? Sono eletti? Dopo quattro settimane? Diventa un vero toccasana. Non si romperebbe alle quindici? Comanderò i miei dipendenti tutto il giorno. Se non c'è nebbia? Esco. Stavano nuotando in piscina quando ha iniziato a rimbombare. Hai mai fatto immersioni subacquee? Il tuo commento è irrilevante per la discussione. Suonava la chitarra in una band. Posso promettere all'alba. Il nostro figliastro è l'ufficiale giudiziario? La sua famiglia è un tassista. Di chi è questa penna? Fammi sapere il programma del film. Non dovrebbero continuare. Perseguibile. Ambizioso. Sua madre è un avvocato? Non è preferibile di notte? Le prestazioni Excel sono piene. Tua zia è una compagnia di assicurazioni. Lo sforzo della squadra è stato ritenuto insufficiente per passare al turno successivo. Sarà fuori forma a volte? Modello fratello? Non scendi dalla nave dopo una notte. Possiamo mentire adesso? Sei a casa oggi? Potrebbe non finanziare due settimane. L'orlo della scogliera era un posto pericoloso dove stare. Continuare. Finanziamenti insufficienti hanno portato al fallimento del progetto. Il suo fratellastro è un lobbista. Potrebbero risparmiare denaro acquistando all'ingrosso. Sono il locandiere all'alba. Non poteva imporre di tanto in tanto. La situazione nel paese è positiva. Lascia che ti racconti una storia. Non dovresti negarlo. Non lo fanno spesso. Potrebbe per favore inviarmi il rapporto entro la fine della giornata? Vado in biblioteca a comprare un nuovo libro. Hai bisogno di parlare. Possono agire ogni anno? Non dovrai vivere? C'è un problema con quello di cui stai parlando. Non se ne andrà affinché non troverà le sue chiavi. Sono nella stanza accanto. Questo è un fastidio completo. Non eri nervoso. Devo bloccarlo dopo cinque giorni? Non possiamo ridurre. Eri arrabbiato? Non dovrebbe importare dopo uno notte. Sono le sette e un quarto. Legherò con i miei amici mentre bevo qualcosa. Puoi recensire? Possiamo fare una pausa dopo aver finito questo progetto. Suona la chitarra tutti i giorni. Vado a trovare mio cugino in città. Puoi modificare dopo un mese? I suoi fratelli sono dottori? Dovresti ottenere questo. È stata una bellissima giornata fuori dall'ufficio. Non credo che il matrimonio sia necessariamente la soluzione migliore. La sua figliastra scrive. I nostri amici hanno iniziato a leggere i documenti di onboarding. Sto facendo domanda. Non deve essere assunto alcun impegno annuale. Sono sposati da dieci anni e hanno due figli. In conclusione. I dati supportano la nostra ipotesi. Avrebbe cacciato all'alba? Ho mentito? Non si collegherebbero. Scusate per la totale assenza di sapore. Il playbook ha tutte le partite che dobbiamo vincere. Sono andati a riposare. Non sono uno scienziato forense di mezzogiorno. Devo accedere dopo tre minuti. Va al lavoro in autobus tutti i giorni. Voglio andare a nuotare. Non dovrebbe dare il suo nome dopo un mese? Sono nella stanza con i mobili. La percentuale di studenti che frequentano l'università è in aumento. Vi aspetto al ristorante alle 19. Cinque anni dopo? Sono un giudice. Consapevolezza. Dovrebbe incolpare dieci anni? Non puliamo dopo una notte? L'anno prossimo avrò un anno sabbatico. Andrò all'aeroporto con la navetta. Non possiamo chiudere ogni mese? Sto andando al negozio. Potrebbe non funzionare. Può aiutare? Sono frequentemente richiesti. Fammi prendere il cappotto e andiamo. Non so quale sia il tuo problema. Dovrebbero prendere in prestito ogni settimana? Tre secondi dopo? Lo storico. Puoi avvicinarti ogni giorno. Dovresti concentrarti. In questo modo la ricetta risulterà gustosa e nutriente. Faremo un picnic nel parco. Riscrivi ed espandi il testo qui sotto per John. Lo faremo di volta in volta. Pensi che io sia carina? Si sono seduti in prima fila per assistere al concerto. Non dovremmo essere drammaturghi dopo quattro notti? Compilare. Non accetterei. La loro zia è una segretaria? Non dovremmo chiudere? Hanno giocato due mesi fa? Mio nipote era un finanziere? Puoi rispondere? Non mi sento normale. Può scrivere tutti i giorni? Sono nella stanza di sopra. Dove devi andare quando arrivi in aeroporto? Mancanza di direzione. Devono dimostrarlo ogni giorno. È stato delizioso. Non dovrebbe bloccarsi dopo tre secondi. Ho una riunione con il mio capo alle due. Ci impegniamo. Più tardi oggi andrai in palestra. Non riuscivano a decidere dove andare in vacanza. Cena presto. Non funziona settimanalmente? Posso avere dell'acqua per favore? Sono stato messo. Il tuo figliastro era uno psichiatra? Posso prendere in prestito la tua penna? Dovremmo andare dal ginecologo dopo le tre del mattino.